Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domenica torna l'appuntamento con la Maratona di Roma, partenza e arrivo dai fori imperiali e un percorso di 42 km che oltre al centro si snoderà tra San Paolo, Piramide, Il Lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, il Flaminio e il Villaggio Olimpico. Chiusure al traffico sono previste dalle prime ore e sino alle 15.30 di domenica con già alcune chiusure questa sera per gli allestimenti delle strutture. Complessivamente per la Maratona ci saranno modifiche per 73 linee del trasporto pubblico, 9 saranno sospese, 9 deviate, 55 limitate. I dettagli sul romamobilità.it